Per i lavoratori ex ServiRail la risposta è arrivata ancora una volta dopo una eclatante protesta. Dopo l'occupazione del campanile del Duomo, per dire no al rindio al 4 giugno del tanto atteso incontro a Roma, il responsabile risorse umane di FS, Domenico Braccialarghe, ha comunicato una nuova data, il 28 maggio. Un ripensamento che, conseguenza dell'enesima battaglia degli ex cucettisti nell'ambito di una guerra di nervi, la cui vittoria è rappresentata solo dal recupero dei posti di lavoro. Determinante ancora una volta l'intervento del prefetto Francesco Alecci, che ha chiamato i vertici delle ferrovie, ma anche il sindaco Giuseppe Buzanca si è apertamente schierato con i manifestanti, così come il presidente del Consiglio Comunale, Pippo Previti. Per lunedì 28, dunque, sono attese le risposte definitive in merito al ripristino dei treni notte a lunga percorrenza verso il nord Italia ed in merito al personale da reimpiegare. Gli 85 lavoratori, ormai al collasso economico, hanno già comunicato che non si accontenteranno di nuove promesse. Il tavolo tecnico nella capitale sperano possa essere il lieto fine di una lunga e estenuante battaglia, che li ha visti sul tetto della stazione di Messina o sui binari a bloccare i treni. Ieri, sulla campanile del Duomo, protesta servita ad ottenere attenzioni, alzare la voce qualche volta serve.